che i criteri di stabilità abbiano un ruolo importante, però è chiaro che non possiamo costringere nessun Paese in un programma di austerità, quindi una cornice per poter raggiungere un accordo in Europa prossimamente. Alla fine non ha senso cercare di capire quale sia stato il motivo per cui il Presidente Putin abbia partecipato. La Presidente del Consiglio lo ha detto, forse voleva semplicemente partecipare a una videoconferenza, nel merito per me è stata un'occasione buona, una buona opportunità per evidenziare da parte nostra che la pace nell'Ucraina è in pericolo perché la Russia ha attaccato l'Ucraina e che si può ovviamente risolvere facilmente con il ritiro delle truppe russe dall'Ucraina. Questo noi l'abbiamo sottolineato come hanno fatto anche altri.